Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta benvenuti nel canale di Milan Insight oggi siamo qui per il video prepartita di Dinamo Zagabria Milan prima di cominciare però ragazzi vi ricordo come sempre gentilmente di lasciare un like al video iscrivetevi al canale youtube di Milan Insight in descrizione invece tutti gli altri link di tutti i social di Milan Insight e il sito internet www.cminainside.com allora ragazzi partita fondamentale, importantissima che può già da stasera indirizzare la qualificazione o perlomeno il futuro della qualificazione del Milan vero è che con una serie di calcoli e di intrecci al Milan potrebbe andare bene anche il pareggio stasera per poi dover vincere obbligatoriamente contro il Salzburgo all'ultimo però io direi molto francamente, molto sinceramente di evitare di basarci su questi calcoli e di andare a vincere per una maggiore tranquillità come si apprestano le due squadre ad affrontare questa partita con un modulo speculare in Milan complice l'assenza di destra e diciamo il dubbio riguardante Praim Diaz vedrà in campo Tatarusano in porta a destra ci sarà Calulu al centro complice la squalifica ingiusta di Tomori ogni volta mi viene un male dentro a ricordare quell'episodio complice l'assenza di Tomori ci saranno Kier e Gabbia a sinistra Teo Hernandez al centro campo ritorna la mediana titolare con Benasere Tonali sulla tre quarti qualche novità legata ripeto al dubbio riguardante Braim Diaz e ad un cambio diciamo tattico che il mister sta valutando quindi a sinistra torna a titolare Leao al centro ballottaggio Krunic de Keteler con il buon Rade leggermente favorito e a destra non Messias bensì potrebbe esserci Anterevic come punta centrale al centro dell'attacco ritorna Olivier Giroud con Orighi che parte inizialmente dalla panchina e scalpita per giocare, entrare e magari anche decidere la partita la Dinamo risponde con un modulo specolare 4-2-3-1 con Libakovic Ristovski, Shutalopessic e Liubicic Ademi e Misec in mediana tre quarti con Spicchici, Vanusek e Orsic alle spalle di Petkovic tutta una serie di ic che se non mi sono confuso è un miracolo ma comunque, detto questo arbitra il signor Marciniak, polacco con il quale Milan ha un solo precedente non bellissimo risalente alla prima partita dell'anno scorso di Champions quando i rossoneri persero per 3-2 ad Anfield di quella partita mi ricordo sinceramente quel rigore che poi Mignon neutralizzò su Salah per quel braccio un po' diciamo così dubbio, mettiamola così di Benazer non dubbio perché il movimento col braccio c'era non ricordo che fosse larghissimo insomma ebbi qualcosa da ridire su quel braccio comunque poi venne neutralizzato andammo in vantaggio e bla 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 fu annullato per un gol a Kier purtroppo però su un fuorigioco evidente e come dicevo poco fa la partita è importantissima va vinta la Dinamo non perde in casa da dicembre dell'anno scorso quindi sono praticamente 9-10 mesi che non conoscono la sconfitta in casa in questa Champions hanno sconfitto il Tottenham e pareggiato col Salisburgo e pardon il Tottenham il Chelsea è pareggiato col Salisburgo e quindi verranno supportati da una vera e propria abolgia dei loro tifosi tanto che il Maximir sarà tutto esaurito i tifosi rossoneri i rossoneri saranno scortati per evitare che possano crearsi conflitti con i tifosi di casa e ripeto sarà una vera e propria abolgia che metterà il Milan davanti a una vera diciamo prova del nove come ho detto poco fa per capire quale possa essere il futuro legato alla Champions del Milan una sconfitta oggi comprometterebbe nettamente se non chiuderebbe ogni discorso legato alla qualificazione sì perché bisognerebbe vedere alle 18.45 cosa fanno Salisburgo e Chelsea perché abbiamo una situazione di 7 Chelsea 6 Salisburgo 4 e 4 Milan e Dinamo Zagabia quindi ammesso che Chelsea magari se vince Chelsea anche in caso di sconfitta potrebbe rimanere una speranza però poi dovresti sperare che la Dinamo non faccia un punto contro il Chelsea calcoli fin troppo complicati diciamo percentuali ridotti all'umicino motivo per cui oggi l'unico obiettivo deve essere la vittoria questo è quando ragazzi vi ringrazio vi saluto vi do appuntamento poi a domani con analisi e pagelle nel frattempo potete seguire tutti gli aggiornamenti della partita sia con la live testuale sia il pre post con le dichiarazioni sul sito sui social e noi vi ringraziamo vi salutiamo vi ringraziamo anche per il supporto che quotidianamente ci fornite ricordatevi ancora una volta like iscrizione commentate campanellina qui e dappertutto ciao ragazzi e sempre forza mila